Arriviamo in Calabria con 4 ore di ritardo Badolato, stazione di Badolato Alla stazione è venuto a prenderci mio cugino con l'alfa 90 E noi lo chiamavamo l'alfettone da rapina Cioè mio cugino aveva il gomito fuori dal finestrino così Lo stereo altissimo Questo pezzo va fortissimo in tutte le arrosticerie di Badolato Poi c'era il gomito fuori dal finestrino e il pacchetto di Malboro arrotolato qua nella maglietta I pelazzi che gli scendevano giù fuori sulla carrozzeria così Ecco mio cugino mentre aspettava per 4 ore continuava a sgassare E' finito in riserva alla fine Ma si può sapere quanto ci avete messo, parca miseria E non è colpa nostra, è colpa di Trenitalia purtroppo E vabbè dai forse che siamo in ritardo per lo concerto allora dai Saltiamo su sulla macchina e partiamo E siamo andati tutti subito verso il concerto Sì Grazie a tutti